Ciao amiche e amici della vostra Gattaluna, eccomi qui appena tornata da una commissione mi sono messa questa bella fascettina, mettiamola così, così la fronte sembra meno alta quindi, non che me ne importi un fico, comunque è arrivato il pacchetto che avevo ordinato in occasione del Black Friday da Clio Makeup oh che notizia originale, strano, come mai ho preso delle cose da Clio e c'erano delle offerte adesso apriamo il pacchetto con la mia taglierina ecco qua, vediamo che cosa abbiamo cosa abbiamo preso? Ma cosa abbiamo preso? Allora, il Keep the Hero questo è carino anche come idea regalo e Clio ha fatto notare che qui ha ancora la palpebra cadente perché non aveva ancora fatto la blefaro dentro cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Dentro c'è il... aspetta che c'è caduto il coso qua dentro c'è un super strucco e una... e una... mascara in Travel Size carino Kit Hero Travel Size due gocce d'acqua però io c'ho le palpebra cadenti tutte e due il resto è uguale comunque venendo al sodo poi ho preso erano tutti i prodotti scontati dato che mi sta finendo ho preso la cipria 01 ma io c'ho la 01, sei assicuri? Mi sembra troppo chiara mamma mia, adesso ho sbagliato ho sbagliato, oggi ho sbagliato sembra uguale, non è uguale è un po' più chiara fair ah no, questo... no, no, questa è la scatolina sì, l'ho presa la scatolina perché costava una sciocchezza poi perché questa si erano fatte delle macchie perché l'avevo toccata con le dita sporche di fondotinta quindi per il momento lo lasciamo qui attimo, l'ho presa troppo perché questa qua era quella più scura lo so che io la uso come terra vabbè, ci sta questo è evidente che è più vabbè, evidente poi l'altro però dato che ci sono tre colori non credo di avere sbagliato è proprio quella lì comunque dopo questa con calma adesso la metto nella sua trussettina ok poi cosa ho preso? ho preso per le mie labbra disastrate l'ultra balm che mi era finito questo lo conosco quindi questo per made in Italy vegan ok tutto sappiamo insomma e questo va nelle scorte poi ho preso un un creamy love forse è un omaggio questo malva nude comunque questo forse c'erano dei sì 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 c'erano questo per esempio è omaggio la Misty Fix piccolo questo era un omaggio sono sicurissima il non mi ricordo se era questo in omaggio o l'aldo no questo all die love brow fix un gel fissante per le sopracciglia questo è un prodotto nuovo che non abbiamo neanche mai visto che comunque sono troppo preparata io in questi video non mi ricordo e questo è nuovo è un gel fissante io credo di avere finito quello che avevo quindi questo lo posso potrei mettere addirittura in pista e questo invece è un rossettino la chiederò alla figlia se le può interessare che questo il move mi sembra che sia un bel colorino però non voglio usare il suo vediamo se c'è qui il noi siamo fortunati lo becchiamo no vediamo se lo troviamo così al colpaccio no sei mio no sei mio quello che ho su adesso rosso no rosa scuro no però qual è sennò uno di questi tre ecco qua move come si chiama abbiamo detto move nude vediamo che adesso non mi ricordo poi un colore febbu se è mio me lo ricordo che l'ho usato un sacco di volte questo qua bello bel nude freddo posso chiedere alla figlia se le va di metterselo ma non credo questo mi sa che è meglio che lo regalare a un'amica perché lei non le mette ste robe non le mette meno male che non l'ho aperto perché poi è proprio uno spreco e questo qui sono sicurissima questo è un sicurissimo che è un omaggio credo sia un omaggio anche questo qua e potrebbe essere un omaggio anche questo però Paola ti metti nella tua testolona l'idea che i video si preparano è vediamo ma noi cerchiamo sull'ordine che abbiamo fatto vediamo un po' vado sul coso qua quindi questo andiamo nella post e cerchiamo Clio Makeup Shop ordine 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 omaggio allora ci siamo eh che ci voleva questo è omaggio il gel fissante è omaggio il Misty Fix piccolo travel size che poi non è così piccolo un bel peso c'ha sono 50 ml che non è poi così piccolo omaggio e il il cremi love l'ho pagato 13 euro e 60 questo qui l'ho pagato 27 euro era tutto scontato secondo me e infine l'ultra balm l'ho pagato 9,90 e non infine Paola perché poi la trousse l'ho pagata 9,40 e poi la cipria l'ho pagata 12,90 ok quindi c'è tutto lo sconto eccetera però sì volevo vedere sul sullo shop ecco le i colori di cipria che c'erano perché a sto punto mi sono fissata mi sono incaponita come dice a Napoli a Napoli allora vediamo Clio make up shop shop no shop no shop shop eccolo qua allora vediamo un po' su pestru col correttore fondutini sì era tutto tutto scontato anche la cipria a sei tonalità ahia mi sembra sbagliato allora vediamo fair porcellana dal sottotono freddo light beige chiaro dal sottotono neutro vediamo light com'è no io questo qua ho preso fair questo qua secondo voi questo si vede un accidente è uguale eh ma non non si può paragonare così bisogna vedere la luce ma è quello che avevo già miste anche perché per toglierci il dubbio dovremmo estrarre allora per toglierci il dubbio dovremmo aprire la convenziane e tirar fuori e leggere dietro cosa c'è scritto ma la domanda è come si toglie ma sinceramente io fermiamo un attimo e faccio quest'operazione allora era è fair anche lui quindi questo qui ho comprato il colore che già avevo adesso qui sembra bianco ma è praticamente un chiaro la mia pelle è così guardate qui sulla fronte l'altro sarebbe stato troppo scuretto si va bene ci sta ci sta dopo lo mettiamo e buonanotte al secchio amiche amici fate quello che vi fa stare bene quanto meno quello che vi fa stare meglio vi ho fatto vedere gli omaggi vi ho fatto vedere insomma tutte le cose credo che questi omaggi valgono fino al forse al primo di dicembre al 2 al massimo quindi se c'è qualcosa che vi interessa se volete avere qualcuno di questi omaggi perché poi forse ce ne sono anche degli altri e se vi interessa questo qui che è simpatico come regale o un costo tutto sommato contenuto e quindi c'è lo struccante in burro e il uno dei mascara di Clio tanto sono tutti comunque molto buoni e buon credo che in questa foto lei indossi sei mio identiche 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 buon basta stupidate alla prossima un sorriso per voi che 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 che